Eh, vabbè, mi ero detta oggi mi disconnetto, non faccio niente, voglio starmi nel caruccio, al calduccio, a casa mia, dopo una tre giorni pazzesca come quella che abbiamo vissuto durante Book City, per i quali vi devo ancora ringraziare all'infinito. E io sono a casa, non so se si nota, sono a spalle della mia libreria e i disegni dei miei bimbi che sono appesi ai mobili della libreria e oggi mi sono detta non faccio niente, non voglio postare, non voglio disconnettermi completamente, però è successa una cosa un po' particolare. E' successa che mi sono messa a pensare, tutta questa avventura di Book City, gli ultimi mesi così intensi, l'avventura con Book a Book, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare a che cosa significhi essere una libreria indipendente e un libraio indipendente. E così, poiché sto scrivendo questo benedettissimo romanzo o libro o non lo so, poi mi direte voi che cos'è appunto un copo di libri, io mi sono detta scriviamo, scriviamo anche questo, scriviamo questa riflessione, scriviamo che cosa significa e com'è sentirsi indipendenti. E poiché mancano ben 87 giorni alla fine della nostra campagna e siamo solo al 15% e tra parentesi ringrazio Gabriella Genisi, Sabrina De Bastiani, Manuel Figliolini e Alessandro Bastasi, tutti gli amici e gli autori che hanno preordinato la loro copia, io voglio leggervi quello che ho scritto in queste ultime ore, proprio legato a un covo di libri e quindi all'essere indipendente, non solo mio, una riflessione che spero possa essere il più possibile condivisa e condivisibile. E quindi ora vi leggo un pezzettino di quello che è il capitolo 6, ovvero disegnare una libreria indipendente. Essere indipendenti. Questa frase la sussurra quasi ad alta voce, come a volerne dare un peso. Non ha trovato una sola definizione che l'abbia potuta aiutare nel capire cosa si intenda esattamente per libreria indipendente. La nostra futura libraia però si è potuta fare un'idea di che cosa significhi per lei questa etichetta. Ha fatto tesoro degli insegnamenti di chi prima di lei ha già tentato e tentando è riuscito a riscrivere le regole del gioco. Altri librai hanno modificato prassi operative e abitudini decennali. Lei vuole partire da qui e andare un po' oltre, uscendo dalla porta della libreria, tuffandosi nel flusso caotico di idee, volti, pensieri, amori e dolori. Anche se piccola e povera, e con molte più speranze di quante siano in effetti le sue possibilità, è stata abituata a guardare il mondo con curiosità, ad entrare in sintonia con le storie e le vite delle persone che la circondano, cercando di abbandonare preconcetti e pregiudizi di ogni sorta e tutto questo ora lo vuole portare anche al covo. Vuole sperimentare, provare e spostare i confini e l'immaginario di un mondo che si ricopre giorno dopo giorno di polvere e di noia e desidera avvicinare il libro e le storie che racconta alla contemporaneità. Forse essere librai indipendenti è proprio questo, cercare connessioni con chi è già o potrebbe diventare goccia testarda, quelle gocce che già da sole possono alla lunga forare la roccia più resistente, che insieme ad altre hanno la forza di aprire un varco. Questa è stata un po' la nostra sfida qui al covo della Lada, non so se ci stiamo riuscendo, non so se ci sto riuscendo, però so che grazie all'aiuto dei lettori che ci seguono, degli scrittori che si rivolgono al covo delle case editrici come la Bookabook, la Zona 42, la Future Fiction, adesso le nomino tutte perché poi se le nomino qualcuna e me ne dimentico altre, sembra quasi che voglio fare uno sfregio ad altre, però insomma grazie alla collaborazione di tutti ci proviamo, almeno ci proviamo, non so se ci stiamo riuscendo. Però vi voglio anche chiedere un favore, se volete provarci e aiutarci insieme a noi, e continuare a provarci insieme a noi, dateci una mano a pubblicare un covo di libri, nella caption, nel testo di questo video trovate il link, intanto mi sono il cellulare come al solito, oggi è il disastro, trovate il link per poter accedere alla campagna Bookabook, se preordinate la vostra copia potrete averla prima di tutto o cartaggia o in digitale, ma poi stiamo preparando anche una piccola sorpresa, per cui insomma rimanete connessi, seguiteci qui sul covo della ladra, qui sul mio profilo personale, perché vabbè ormai le cose sono molto unite, ma soprattutto sostenete un covo di libri e preordinate la vostra copia, dobbiamo arrivare al preordino di 200 copie, siamo a 170, mancano 87 giorni, sembrano tanti, ma invece non sono, e quindi come ci avete aiutato ad aprire la libreria, così adesso aiutateci a raccontare non la nostra storia, ma la vostra storia, la storia di un posto che è casa vostra. Lo so che sembra retorica dirla così, però io ci credo veramente e spero che ci crediate anche voi che ci seguite tutti i giorni. Dalla vostra libraia con cappellino e da una mariana qualsiasi, un bacio e a presto. E sostenete il crowdfunding per un covo di libri!